L'ha accolto, però alla fine non è bello, per me personalmente ho tre figli a casa, stare fuori una settimana a fine stagione non è il massimo, però alla fine siamo dipendenti del Bari e di conseguenza dobbiamo accettare questa cosa volendo o non volendo. Tu sei uno dei pochi giocatori che ha firmato e aderito alla spalmatura del contratto, cosa pensi invece dei compagni che non hanno aderito questa iniziativa? Penso che non bisogna giudicare bene o male se uno ha firmato o no, perché alla fine ogni persona non ha chiesto soldi in più a Mari dove deve, doveva avere solo quello che gli aspettava e comunque tante persone non hanno firmato perché non potevano firmare, perché le condizioni contrattuali non potevano firmare, ma queste cose magari non si sono dette, di conseguenza Mari sono stati messi anche in giro certi ragazzi che sono stati presi di mira che magari non potevano proprio farlo questo ragionamento, quindi io non mi sento di giudicare assolutamente chi non ha firmato perché alla fine ognuno ha i suoi impegni e le sue cose, quindi non sta meglio. Grazie